Parte di slancio il 2021 del parco San Bartolo in un connubio fra ente e comune che introdurrà la guardia del parco, l'assunzione di un cantoniera cura della sentieristica, un rinnovato piano di prevenzione incendi così come rinnovata e la cartellonistica per ciclisti e escursionisti e poi una migliore convivenza tra l'uomo e la fauna locale, previsti dissuasori per mettere animali al riparo dalle strade così come una accurata gestione dei cinghiali. Questa la nuova filosofia operativa del presidente Stefano Mariani. Invertire un po' quello che è il modo di operare del parco, cioè il parco come ente promotore di azioni a tutela del sviluppo turistico, culturale e patrimoniale, economico di quelle che sono le realtà che poggiano sul territorio, semplicemente questo con l'aiuto del comune perché noi senza il comune o senza i comuni perché noi siamo un parco intercomunale e quindi chiaramente il comune di Peso e il comune di Gabice poco saremo. Quindi il parco che nel corso di questo 2020 è sempre diventato una realtà sempre più importante, magari prima un po' più trascurata, adesso più importante con quello che è avvenuto, deve comunque promuovere quelle che sono dell'iniziativa. Tanto che in questo nuovo modo di operare il parco è alla ricerca, ha partecipato al cofinanziamento e alla ricerca di finanziamenti. Pesaro e Gabice avranno finalmente anche una sede a metà strada. Dopo anni di promesse la nuova sede del parco sarà a Fiorenzuola di Focara, cioè nel cuore del parco. Il comune di Pesaro destinerà ad altre funzioni di valorizzazione del San Bartolo l'attuale sede di Baia Flaminia. A Fiorenzuola invece ultimi ritocchi per una sede con efficientamento energetico e che soprattutto ospiterà il centro visite che mancava. L'occasione sarà anche per parlare del trasferimento della sede qui a Fiorenzuola di Focara dell'ente parco perché così era dovuto e perché questi erano gli accordi di oltre vent'anni fa tra il comune e il parco e anche perché finalmente ci doteremo di un centro visite che in realtà al parco non esiste ed è obbligatorio che esista un centro visite in un parco perché qui siamo al centro intanto dei due comuni. Essendo un parco intercomunale siamo all'interno del territorio del parco perché precedentemente il parco era fuori dal territorio del parco. Oggi presentiamo diverse iniziative dal cantoniere del parco alla guardia del parco a soprattutto questa sede che diventa sede ufficiale del parco e quindi permette anche un presidio maggiore ma anche una visibilità maggiore in uno dei punti, uno snodo di riferimento per i ciclisti appassionati del mare, per le escursioni a piedi, quindi sarà anche più visibile, più frequentabile e quindi più testimonial di quella che è l'importanza e l'azione del parco. In più appunto c'è tutta una serie di progettualità e di iniziative che legano il comune del parco di San Bartolo, la stessa sede che non ospiterà più la parte amministrativa ma verrà messa in gioco dal comune di Pesaro per progetti naturalistici, ambientali, sportivi di cui tutta la ricchezza di offerta del parco rimarrà comunque un elemento, parlo della sede ovviamente il mare Flaminio e quindi tutto il sistema che si rafforza. Ai piedi del San Bartolo si è completato oggi anche un importante abbattimento di barriere architettoniche. Grazie a un investimento di 50 mila euro del comune di Pesaro il centro socioeducativo di Villa Vittoria è stato infatti dotato di un ascensore che consentirà agli utenti disabili di soffrire anche del primo piano fin qui inutilizzato.